Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 3 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Passiamo sulla 12 dove si segnalano code a tratti sempre a causa di lavori tra Carrara e Versilia in direzione Livorno. 3 chilometri di coda invece ancora a causa di lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Da segnalare anche code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze per traffico intenso. Sulla statale Trebis Tiberina sempre a causa di lavori chiusi gli svincoli di Val Savignone e Sansepolcro Sud per chi viaggia verso Ravenna. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!